Musica Benvenuti in questo mio nuovo video Andiamo a vedere come completare la sfida Cerca la AI nascosta nella schermata di caricamento nascondino La AI si trova esattamente qui Praticamente bisogna entrare qui dentro Andare qua Poi bisogna salire le scale Saliamo le scale, perfetto E la AI si troverà esattamente qui Comunque questo video finisce qua Spero che ti sia piaciuto Mi raccomando iscriviti al canale Per stare sempre aggiornato su Fortnite Lascia un bel mi piace per supportarmi Commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao Noi ci vediamo in un prossimo video Noi ci vediamo in un prossimo video